Musica Buonasera ai miei cari pixelini e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery mamma mamma mao ragazzi oggi dobbiamo continuare il capitolo 23 dobbiamo finire il capitolo 23 tornare nella foresta proibita con Ben perché ci è stato chiesto di andare insieme a lui e non ho capito perché eravamo lì che stavamo parlando con Andre e dal nulla è arrivato Ben tipo aiuto aiuto dobbiamo tornare lì perché assolutamente successe cose non so cosa sia successo quindi andiamo subito nel boschetto della foresta e andiamo a scoprirlo nel mentre vi ricordo che tipo l'80% delle persone che vedono il mio video non sono iscritte al canale quindi ragazzi premete il pulsante iscriviti è gratuito potete cambiare idea quando volete e quindi subito subito presto presto ma ragazzi eccoci qua andiamo e scopriamo assolutamente cosa vuole Ben perché ci siamo incontrati qui Ben rischi rischi di spaventarlo spaventare chi? spaventarlo che cosa? o meglio chi? quello ah giusto no ragazzi no 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 che brutta cosa vedere quel coso un testral ne hai già visto uno? non so se farebbe ben spaventato ora o meno perché comunque secondo me è fragile in questo momento abbiamo fatto una lezione su di loro a cura delle creature magiche poco dopo hai capito che abbiamo visto Rowan morire eh sì forse è questo il motivo per cui il testral è venuto qui non puoi vedere un testral se non hai visto la morte o magari il testral è sempre stato lì ma non lo potevamo vedere prima è per questo che sei tornato qui? per vedere un testral? cioè è lì ok l'abbiamo già visto non è una novità non è nulla di emozionante cioè oddio è un po' triste però nel senso è cioè triste per il motivo per cui lo vediamo non poverino lui che non ha fatto niente no da quando siamo tornati qui è come se questo posto mi chiamasse e pronto? salve ben potresti venire qui per cortesia? sì sì ho appena buttato giù pronto? salve ben potresti venire qui? sì ho già detto di sì prima o poi verrò eh pronto salve ben potresti venire qui? alimorte scusate il telefono che chiamava ben perché mai vorresti tornare qui? immagino che ognuno di noi elabori il lutto in modo diverso eh sì e poi è comparso questo testral è come se sapessi dove trovarmi ah ok sapesse sapesse perché non me ne parli? sono certo che per il testral non sia un problema anche perché lì a farsi i cavoli suoi hai ragione Rocky penso di aver bisogno di parlarne che carino però guardate con quegli occhi assassinati ah ok eccoci qua ragazzi 8 ore di energia perché è giustamente 8 ore uh club parliamo col testral che mi sembra più interessante dici che è lo stesso testral che hai visto prima? nella foresta c'è un branco intero eh appunto come fai a capirlo? ognuno di noi elabora il dolore diversamente io odoro il ricordo di Rowan tornando qui odori? cioè sniffi per terra? mi capire è una scelta saggia in un luogo che ti ha lasciato bei ricordi terribili? è una scelta saggia tornare in un luogo che ti ha lasciato dei ricordi terribili? eh boh dipende ho saltato alcune lezioni dopo la morte di Rowan non ce la facevo tornare nel luogo in cui è morto Rowan ti è di conforto? eh evidentemente se no perché no magari no conforto no però insomma forse Joe potrebbe passarci del cibo dalle cucine da dare al testral eh potrebbe essere una cosa buona carina e coccolosa tornare qui mi fa venire in mente perché dobbiamo sconfiggere R un attimo di ansia per Rowan riusciamo entrambi a vedere i testral perché abbiamo visto morire Rowan sì lo sappiamo non serve che lo dici cioè le basi le persone temono ciò che non comprendono ecco perché sono qui ah il testral simboleggia le ansie e le paure di Ben ok ha senso dici che lo sì l'abbiamo già letto ragazzi cioè hanno fatto un lavoro psicologico per una volta gli sviluppatori grandissimi cioè no ma veramente super top è una sì mi sa che abbiamo già finito il dialogo come vorrei aver scelto cura delle creature magiche voglio conoscere tutti i testral non tutti i dialoghi ok ora abbiamo letto tutto il dialogo quindi ragazzi mentre io mi sbrigo e finisco l'energia e vi ricordo che se volete avere energia infinita gemme infinite monete infinite ma soprattutto tacquini infiniti dovete andare su ilpixelmatto.it slash tacquini trovate anche qua sotto le informazioni tutte le informazioni a riguardo dove potete avere dei tacquini finiti e un sacco di altra roba molto figa anche per il nuovo gioco di harry potter enigmi e magia anche se in quel caso c'è una mod ma è leggermente un pochettino non funziona bene ancora però sono sicuro che dai prossimi aggiornamenti la miglioreranno la faranno funzionare meglio eccetera ma ragazzi eccoci qua abbiamo preso tutte le 5 le stelline abbiamo anche di nuovo finito l'energia ma non è un problema vi ricordo di lasciare un like per supportare questo canale a crescere eccoci qua subitissimo mamma mamma mao quasi subitissimo se mi comparisse questo schermato ok raccogliamo le 5 stelline e andiamo avanti davvero trovi conforto in questo luogo dopo tutto quello che è successo con Rowan se gli piace gli piace penso che avevo bisogno di tornare qui se non fossi venuto non avrei mai visto un testral giustamente anche perché se lui ha detto che non ha scelto le creature magiche insomma cura delle creature magiche lui non c'era a lezione quindi lui non ha visto il testral giustamente ha ragione almeno fino alla fine dell'anno sono loro che trainano le carrozze di Hogwarts molti studenti non riescono a vederli perché non hanno mai visto la morte beati loro ecco perché così tante persone hanno paura di testral ma tu no vero forse le streghe e i maghi intorno a me li trovano inquietanti ma penso che siano gli esseri che danno conforto sono degli esseri che danno conforto Ben sta diventando lo sviluppo del carattere di Ben sta diventando veramente fantastico ragazzi da il primo anno in cui c'è questo Ben spaventatissimo che non riesce a parlare non riesce a esprimersi non riesce a fare nulla se non con noi che lo aiutiamo a questo Ben che adesso finalmente ragazzi comincia ad aprire gli occhi comincia a esplorare il mondo di fronte a sé accanto a sé comincia veramente a vivere gli sviluppatori stanno facendo un lavoro veramente sublime qui bravissimi oh cucciolino guardate come carino piccolo testrellino cosa ne pensi dei testrell rocchi io li adoro sono bellissimi sono inquietanti mi mettono a mio agio non c'è tipo sono carini sono no eh non si può scegliere tra una cosa carina e sono inquietanti terribilmente e vabbè io mi metterò mi mettono a mio agio cioè non è che mi mettono a mio agio sono lì non è come un gattino il gattino mi mette a mio agio un po' di più però vabbè fatemi sapere cosa avete risposto voi io sceglierò sono d'accordo con te i testrell mi mettono a mio agio sì più o meno eh dai nessuno sa come mai solo chi è stato testimone della morte possa vederli ma è il bello dell'alone di mistero che li circonda vorrei sapere l'altro dialogo questo è veramente vabbè ho appena lo dato i sviluppatori mi cadono in un cliché così però sono felice di averti portato qui con me è bello avere al proprio fianco una persona che ti comprende eh meno male ho fatto il bravo il bravo amico giusto forse è per questo che il testrell mi ha trovato perché comprende il dolore del lutto o forse stava semplicemente pascolando lì e tu eri lì in quel momento salve se ne va potrebbe no io volevo accarezzarlo penso che sappia che il dolore è più facile da sopportare quando hai qualcuno al tuo fianco come fa a saperlo perché cioè dici questo perché se n'è andato non capisco passando del tempo insieme così mi sembra di aver ritrovato il mio vecchio amico il mio vecchio amico beh non prendiamo in giro bene poverino ora che Rowan non c'è più sei tu la prima persona con cui ho stretto amicizia Hogwarts momento di silenzio ok grazie alla Rakepick maledetta quella major vendicheremo la morte di Rowan lo prometto presto la pozione polisucco sarà pronta e ci mancherà sempre meno per fermare R e la Rakepick una volta per tutte ma ragazzi non dobbiamo dirlo ora cioè dirlo qui potrebbero esserci orecchie indiscrete dietro l'albero io perché non stiamo zitti un attimino mamma mamma tanta tanta robina ragazzi vorrei fare anche una seconda parte ma non posso in quanto ragazzi ci sono le lezioni di fine capitolo da fare ma ragazzi non vi preoccupate vedrò se riesco a farle uscire oggi alle 4 se volete sapere questa cosa vedere se effettivamente è così ragazzi andate assolutamente su Instagram o sul mio canale Telegram ilpixelmatto si chiamano entrambi ilpixelmatto oppure entrate nel mio gruppo Telegram i pixelini e andate a vedere subitissimo lì perché io tutti i giorni metto la programmazione giornaliera sia su Instagram nelle storie di Instagram che sul canale Telegram ilpixelmatto e quindi potete scoprire se ci sono due video se ce n'è uno se ce ne sono 18 o quanta roba ma ragazzi direi che per oggi è tutto ci vediamo nella prossima puntata di Riporto Cosmister dove andremo a fare quindi appunto le lezioni e poi il capitolo 34 e siamo sempre più vicini ad essere in pari ma ragazzi direi che per oggi è tutto ci vediamo nella prossima puntata di Riporto Cosmister mi raccomando di lasciare un mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova fantastica avventura che altro dire oltre a condividere questo video con tutti i vostri amici per supportarmi aiutarmi a crescere a 10.000 ci sarà veramente una bellissima sorpresa per oggi è tutto che altro dire fatto il mi sgatto ma mao se anche tu come me non puoi più vedere dei poveri ipogrifi incatenati se anche tu come me non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici allora iscriviti al canale del pixel matto potrai trovare ricette gameplay notizie poteriane e molto altro ancora cosa aspetti iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta